salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale angolo creatività di enza in questo video tutorial vi mostro come realizzare ai ferri questo bellissimo fiocchettino è semplicissimo da realizzare quindi ideale anche per i principianti per coloro che stanno iniziando a lavorare da poco ai ferri si realizza anche in brevissimo tempo ed è semplicissimo non dobbiamo fare altro che realizzare una striscia di 20 centimetri e poi andarla a cucire in modo tale da dare la forma di questo bellissimo fiocchetto bombato ideale per poter decorare qualsiasi cosa possiamo anche realizzare le bellissime mollettine possiamo applicarla dei fermacapelli possiamo applicarla delle borsa delle magliette poi in base al filato che a voi andrete ad utilizzare si determinerà poi la grandezza del fiocchetto se utilizzate un filato sottile il fiocchetto verrà più piccolo mentre invece se utilizzate un filato più doppio logicamente il fiocchetto verrà più grande allora io per realizzare questo fiocchetto utilizzato un filato che andrà a lavorare con dei ferri numero tre e mezzo ce ne occorre veramente pochissimo quindi un progetto ideale anche magari per smaltire quei filati in più che ci avanzano da altri lavori quindi andrò ad utilizzare questo filato che andrò a lavorare con dei ferri numero tre e mezzo e poi inoltre ci occorrerà un ago da lana questo qui con la pruna un pochino più larga degli spillini da sarta e delle forbicine per tagliare poi i fili bene prima di andare al tutorial vi voglio ricordare per chi non l'ha ancora fatto di iscrivervi al mio canale ed attivare la campanella così da essere sempre aggiornati sui nuovi tutorial inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina facebook sul mio profilo instagram e su tik tok vi lascio giù in descrizione il link delle pagine inoltre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali accessori per le vostre creazioni bene andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo dolcissimo fiocchettino allora iniziamo a lavorare il nostro fiocchetto avviando sui ferri 16 maglie più due per il vivagno in totale 18 maglie che andremo a lavorare appunto coste uno uno giù in descrizione vi lascio il link del tutorial che vi spiego passo passo come si lavora la maglia a diritto e come si lavora la maglia a rovescio e come si avviano le maglie sul ferro iniziamo la lavorazione del nostro fiocchetto che poi è una lavorazione semplicissima perché non dobbiamo fare altro che ripetere sempre solo lo stesso ferro iniziamo allora lavoro la mia prima maglia di vivagno a diritto e anche l'ultima maglia come ben sapete io la prima e l'ultima maglia le vado sempre a lavorare a diritto indipendentemente dal resto della lavorazione quindi lavoro una prima maglia diritto e poi vado a lavorare una maglia diritto e vado ad alternare con una maglia a rovescio di nuovo un diritto e un rovescio un diritto e un rovescio quindi non dobbiamo fare altro che lavorare sempre solo in questo modo alternando sempre un punto a diritto con un punto a rovescio un punto a diritto e un punto a rovescio fino alla fine del ferro un punto a diritto e terminiamo la lavorazione con un punto a rovescio e chiudiamo con una maglia di vivagno a diritto abbiamo in questo modo lavorato il primo ferro del nostro fiocchetto adesso dobbiamo andare a lavorare il secondo e tutti gli altri ferri saranno tutti uguali allora il secondo ferro non dobbiamo fare altro che lavorare le maglie così come si presentano lavoro sempre la mia prima maglia a diritto la maglia di vivagno poi vedete c'è la maglia di vita la vada a lavorare a diritto rovescio rovescio diritto diritto quindi non vi potete assolutamente sbagliare perché dobbiamo lavorare le maglie così come si presentano quando si presentano a diritto andiamo a lavorare a diritto a rovescio a rovescio quindi alternando sempre un punto a diritto con un punto a rovescio e così dobbiamo lavorare per tutta la lunghezza della lavorazione di un diritto un rovescio un diritto un rovescio un diritto un rovescio e chiudiamo con una maglia a diritto la maglia di vivagno vedete con questo tipo di lavorazione neanche una lavorazione molto abbastanza elastica ora andiamo avanti alternando questa lavorazione lavorando sempre le maglie così come si presentano lavorando una striscia di 20 cm arrivata ai 20 cm poi vi farò vedere come terminare il nostro fiocco bene ho lavorato la striscietta per 20 cm appunto coste 1 1 adesso andiamo a chiudere le maglie che stanno sul ferro allora andiamo a chiudere le maglie già come ho fatto vedere in altri tutorial in questo modo lavoro una maglia diritto lavoro un'altra maglia diritto e poi vado ad accavallare la prima maglia che abbiamo lavorato sulla seconda così lavoro di nuovo una maglia diritto e vado ad accavallare sempre la prima maglia sulla seconda che abbiamo lavorato una maglia diritto e lo possiamo fare anche con le dita se non riusciamo con i ferri così mi raccomando non tiriamo troppo il filo ma facciamo una usura abbastanza morbida un punto a diritto e andiamo ad accavallare e così via per tutte le maglie che stanno sul ferro così ripeto lo possiamo fare sia con il ferro che con le dita come vi è più comodo così è andata a chiudere l'importante è fare sempre una chiusura abbastanza morbida altrimenti se tiriamo il filo poi la chiusura tira e poi non ci troviamo con l'altra estremità quindi vado a chiudere tutte le maglie in questo modo questo fiocchetto è semplicissimo da realizzare ideale per poter decorare i nostri progetti vado a chiudere la mia ultima maglia a cavallo così tiro e vado a tagliare il filo lasciando un po di codina in più perché poi ci servirà anche per cucire lasciamo un po di filo facciamo passare la codina attraverso l'asa la cosa da chiudere bene e ora proseguiamo con la cucitura allora andiamo a ripiegare la striscetta su se stessa non dobbiamo rispettare un dritto un rovescio perché la lavorazione che abbiamo realizzato è una lavorazione reversibile uguale sia per il davanti che per il dietro se voi magari fate una lavorazione che ha un diritto un rovescio allora la parte a diritto la dovete tenere verso di voi così che andando a piegare va all'interno quindi una volta che andiamo a piegare facciamo combaciare bene le due estremità e in questo modo qua andiamo a mettere qualche spillino per fermare bene le due parti che poi andranno cucite insieme quindi se mettiamo qualche spillino la cucitura poi ci risulterà essere più semplice più precisa così ne metto qualcun altro qua prendo il mio ago da lana questo qui con la pruna un pochino più larga infilo con la codina che abbiamo lasciato e inizia a fare la mia cucitura allora andiamo a cucire proprio a pochi a pochissimi millimetri dal bordo se andiamo troppo giù poi ci viene una cucitura troppo doppia ma andiamo proprio qui sopra qua e vedete io il filo questo qui per l'iniziale o la codina che da questo lato qua quindi che faccio punto l'ago qui tolgo lo spillino inizio a cucire magari faccio qualche punto sovrapposto per andare a fermare bene l'angolo e poi inizio la mia cucitura non andiamo a cucire appunto indietro come ho fatto vedere l'altra volta andiamo a cucire proprio qui sul burdo vedete in modo tale che cioè dove abbiamo fatto le maglie di vivagno andiamo a unire le due maglie di vivagno in questo modo comunque sono cucitura che andrà sul dietro e esteticamente non andrà ad occhio quindi proseguo così vedete vado ad unire proprio le maglie di vivagno le due maglie di vivagno che abbiamo fatto all'inizio e alla fine della lavorazione così e proseguo ad andare avanti a cucire in questo modo fino alla fine noi ci vediamo un pochino prima di terminare allora una volta cuscito il dietro è girato sul diritto vi ripeto non dovete fare una cucitura chissà di che precisione perché ora andremo si è sfilato l'ago vabbè dopo andrò a rinfilare allora io qua ho terminato facendo qualche punto sovrapposto che poi alla fine non ho fatto più andiamo a fare insieme vedete sono arrivata qua con la cucitura e vado a fare un punto come abbiamo fatto all'inizio giusto per chiudere bene ne faccio un altro poi vado a mettere la fascetta sul dritto facendo a capitare la cucitura sul dietro giusto alla metà così vedete giusto alla metà sul dietro ora andiamo a ripiegare in questo modo faccio così piego prima su se stesso così e poi vado a ripiegare queste estremità in questo modo così e con l'ago e il cotone che abbiamo lasciato dietro in sospeso andiamo a dare qualche punto ve lo faccio rivedere con la camera davanti hanno l'abbiamo fatto capitare la cucitura sul dietro giusto alla metà del fiocco vado a ripiegare il fiocco un doppio così lo vado a ripiegare in questo modo poi riporto queste due estremità sul dietro così e con lago il filo andiamo a dare qualche punto per fermare il tutto facendo attenzione a prendere tutte le parti altrimenti poi non ci troviamo ecco qua questa è la parte un pochino più impegnativa però semplicissima dobbiamo solo vedete ecco fatto quindi do ancora qualche altro punto per fermare il tutto così una volta che abbiamo unito magari se volete potete ancora dare qualche punto però andiamo ora con il filo in avanza mio per troppo ora è avanzato un pochino andiamo a girare tutto intorno così io ora prenderò altro filo però vedete già viene bello possiamo andare a sistemare un pochino con le mani così perché essendo in doppio viene anche un bel po bombato prendo altro filo e vado a girare intorno bene ho messo dell'altro filo intorno per chiedere bene e ora faccio qualche modo per fermare il tutto l'inizio e la fine del film che ho messo così faccio qualcun altro e poi con lago da lana oppure con un uncinetto vado a nascondere queste codine attraverso il filo che abbiamo appena avvolto quindi ecco il nostro fiocchetto pronto per essere applicato alle nostre creazioni possiamo anche realizzare una possiamo mettere anche dietro una bellissima una molletta un ferma capelli lo possiamo applicare una maglietta insomma veramente lo possiamo utilizzare per svariati in svariati modi quindi vado a sistemare i fili e poi vi farò vedere il fiocchetto terminato bene una volta sistemato anche i fili il nostro fiocchettino è terminato semplicissimo ma di grande effetto che vedete messo in doppio con la stoffa con il filato in questo modo viene anche abbastanza abbombato bene questo è il mio tutorial io spero tanto di esservi stata chiara di esservi stata utile e come sempre di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni se il tutorial vi è piaciuto lasciatemi like lasciatemi un commento e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao ciao